Dopo la Cina e la Germania, con alle spalle la paura del grande contagio, superato grazie alla tempestività e l'efficacia negli interventi e nelle terapie di cura in un mese circa, e l'Italia, con la curva dei positivi attivi che ha finalmente incrociato la curva dei queriti in un tempo doppio rispetto al paese asiatico ai tedeschi in circa due mesi, nel ciclone del virus, oltre al Brasile, l'Equador, con decine e decine di cadaveri per strada e altri paesi dell'America Latina, il contagio sta esplodendo in maniera incontrollabile nella Russia di Putin, a migliaia di positive al giorno. Attualmente sono 200.000. Dopo aver superato Gran Bretagna e l'Italia nel numero dei totali positivi, la Russia tra qualche giorno supererà anche la Spagna e saranno secondi solo all'America di Donald Trump, che conta oltre 1.300.000 di casi di contagio da Covid-19.